La Fondazione Carispac ha presentato oggi i risultati del Bando Turismo Esperenziale 2022-2023 e l'emozione della scoperta dei beni culturali della provincia. Un progetto che ha sviluppato 31 progetti turistici per 170 giornate di visite guidate su 120 beni culturali in tutta la provincia dell'Aquila appunto. Un progetto molto importante. La Fondazione ha pensato soprattutto insieme alle altre realtà, il Comune e le associazioni che potesse essere questo un periodo nel quale dopo la pandemia dovesse essere data attenzione particolare al turismo. L'abbiamo fatto, abbiamo visto che c'è un risultato forte. La Fondazione è stata impegnata in tutti i campi, è stata impegnata anche sulle timore storiche e quindi praticamente tutto quello che ha fatto sul piano turismo ha avuto un risultato importante. Abbiamo pensato che si dovesse fare un passo un po' più impegnato e che si dovessero accompagnare le associazioni che lo fanno a livello culturale da società che siano impegnate sul piano professionale. Ma soprattutto quello che trovo come vincente, come fondamentale di questo bando è il fatto che si crei sistema e che il patrimonio culturale diventi un volano. Volano per la conoscenza del territorio, per la promozione, anche per il turismo del territorio. Quindi si dà il vero valore al patrimonio che oltre a quello appunto di rappresentanza della nostra storia, della nostra storia dell'arte, delle nostre tradizioni è anche la possibilità di spinta, di sviluppo economico del territorio e di promozione del territorio stesso. Intanto saranno ricche state anche di cultura, ci saranno nuove aperture straordinarie per vedere il mammut presentate nel bastione est del castello a luglio 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 tutti i sabati e le domeniche, ad agosto tutti i giorni esclusi o il lunedì. A settembre le visite ci saranno il primo, due e tre. La prenotazione è obbligatoria solo per gruppi superiori alle 20 persone. Inoltre il Munda sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. Il mammut diventa a tutti gli effetti ambassatore ufficiale dell'Aquila, ma in Italia a parte questa straordinaria campagna di promozione del Munda che vogliamo ringraziare e col quale abbiamo collaborato, avremo punti informativi, banner nella città di Roma, nelle stazioni metropolitane, una promozione attraverso gadgets, attraverso queste aperture diciamo straordinarie che ci saranno a luglio, che ci saranno ad agosto con una proposta che diventa di qualità e accattivante per un turismo culturale che si caratterizza sempre di più.